Lombardia adesso con l'associazione direttantista equestre Caprilli, Ignazio Uboldi e Antartac al numero 44. Sopra il monte più alto del mondo a guardare i tuoi sogni e arrivare leggeri. Lombardia adesso con l'associazione direttante equestre Caprilli, Ignazio Uboldi e Antartac al numero 44. 5 le penalità totali, 75 secondi e 63. 6 le penalità totali, 250 secondi e 64.